Dobbiamo semplicemente accettare questa nostra condizione di essere piccoli, umili. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Umiliarsi non significa sottovalutarsi assolutamente, ma umiliarsi significa prendere coscienza che siamo fatti di terra, siamo piccoli, ma proprio da quella piccolezza che si possono vedere le cose più alte, le cose più belle. E si può avere, come diceva Santa Teresina, la gioia di sentirsi afferrati dalle braccia del Padre che solleva il suo bimbo all'altezza del suo viso, lo avvicina a sé e lo riempie di baci. E questo è l'obiettivo anche della Quaresima, quello di arrivare a sentire il calore di Dio, il suo abbraccio, la sua tenerezza, il suo amore e quel suo calore, quel bacio che si stamperà sul nostro viso. Ecco l'obiettivo del farci piccoli, proprio del lasciarci prendere in braccio da Lui. Ecco l'obiettivo del farci piccoli, proprio della Quaresima, Ecco l'obiettivo del farci piccoli